La pisteiese di Mister Asta si sta preparando per la sfida alla capolista. Domenica al Melani arriva il Piacenza. Ultimi allenamenti per capire quale potrà essere la migliore formazione da far scendere in campo dal primo minuto, viste anche le diverse assenze. Out ai centrocampisti, minardi e regoli. Non ci sarà neppure il difensore Muscat, impegnato con la sua nazionale maltese, nella competizione UEFA Nation League. I numeri della Piacenza possono far paura. 22 punti in 9 partite disputate e viaggia con una media di 2,4 a partita. Una curiosità, solo la Juventus in Italia fa meglio. Biancorossi che quindi vorranno continuare su questa tendenza. Davanti si troveranno una pistoiese che non ha ancora vinto fra le mura amiche in questa stagione e quindi proverà a centrare questo obiettivo. Gli arancioni hanno dimostrato di essere in ripresa. I due ultimi pareggi, senza subire gol, hanno dato più fiducia alla squadra. Apparsa un po' più solida, con più carattere e meno errori. Segno tangibile che qualcosa il tecnico siciliano ha trasmesso con il suo temperamento. Certo è che la classifica è rimasta comunque poco felice. E adesso c'è bisogno della prova del 9. Luperini e compagni sono chiamati a sfatare il tabù Melani, nonostante sulla carta i pronostici possono far pendere tutto dalla parte degli ospiti. Ma sarà il campo a dare la risposta. Nella formazione bianco-rossa qualche piccolo problema per Bertoncini ancora alle prese con un problema muscolare e probabilmente non sarà tra i convocati. Silva difficilmente potrà essere impiegato dall'inizio e Porcari ne avrà ancora per diversi giorni, anche per lui problema muscolare. E potrebbe anche essere per Franzini l'occasione di fare un po' di turnover, visto che a fine mese il Piacenza avrà due gare nel giro di tre giorni, prima con Arezzo e poi con Provercelli, dove potrebbe giocarsi una bella fetta di campionato. Probabile il rientro di Giulio Mulas a destra, fra l'altro l'unico ex del match.